salve a tutti i ragazzi qui c'è anche i parla benvenuti in questo video esatto e qui vi porto sono con mio cugino intanto vi porto 10 bustine dei calciatori panini andiamo velocemente ad sono pure queste giapponesi perché non ho tanto tempo dai non ci credo di nuovo un'altra già questo è doppio l'ho trovata altra volta vabbè questo che non ho capito cos'è buono questa che pure è doppia incredibile un testo di genoa mertens mertens è un prezzo di mertens pescara gazzola cercatelo su facebook su twitter gazzola marci 26 ok e moretti gazzola marci che schifo di bustine ok allora se non avete visto la qualità giapponesi delle carti pokemon del video precedente il capitano francesco totti queste sono le carte speciali sui derby che sono 5 ah c'è pure il qr code sono 5 vabbè sono comunque gli stracittadini che ci sono in serie a va bene buono questo poi abbiamo morleo archimede nulla eh sì vabbè cos'è il bologna può essere matos divento matos ziggler e il sieno altro pacchetto aperto altro schifo è buono ma quale schifo c'era buono ma dici vero a parte tutti vabbè è quello vediamo se riesco ad aprirla questa eh guarda che ci sono quelli con le corna di nuovo hai la mia seconda metà no non è quella è diversa forse allora vabbè questi sono gli arbitri gli arbitri che numero è 27 eh vabbè 69 cercare gli arbitri dai numero 69 no dai non fai così dai dai e io non ci sono non ci sono niente niente non possiamo vedere se è l'altra metà vabbè comunque vesti va bene gli arbitri un po' di arbitri eh mantovani che prima era del palermo mantovani ah che schifo e via eh cesar e rivorno e darmian dal torrino del torrino però del torrino del torrino ah che bello se ah se se vabbè vi ho trovato un sesto di udinese un sesto di geno no si è il geno si eh de sciglio e la de scoglio e questa è la primavera dello spezia e l'allenatore che è stroppo e der e silva che è della udinese udinese che schifo non sto trovando più le speciali no non mi piace una speciale come abbiamo ma stai zitto un sesto di roma vuole pollo anche una speciale basta questo è molto concentrato lo sto cacato eh puoi essere guarda lo sto cacato è vero guarda lo sto cacato è vero guarda lo sto cacato è vero guarda lo sto cacato dai basta cesena ok è questo vengono Anna stai zitto di nuovo ah no non lo c'è qual era quella di prima no non ero lo stesso ah quello era spezia questo è siena giusto con Mario Beretta Alessandro Gamberini e Domizzi è proprio Tevez sei Tevez preciso quello fa scantare no e dai perché non ci sono più speciali che schifo allora un sesto di Torino un sesto di? Lucchini ma quale sesto? un sesto Livorno un sesto di? non è un sesto no questo è sesto non è un sesto è sesto guarda un sesto un sesto Antonelli eh eh tre del vero Zecchin che ha le zecchini Zecchin no alle zecchini quante ce ne rimangono? quattro ancora? dai vediamo se tre del vero almeno uno del Palermo qua ci si spiega gli scolettini via e allora e allora abbiamo il Pisa il Ponte d'Era questo che non lo so e la Salernita chi è questo? Bellini che bruttino un sesto di Napoli eh Coria Neto il Binoleffe e Carrarese e Ertò cioè alla fine ci sono sempre quelli dell'Udinese lol non altro un sesto di Torino scusa un sesto di Torino niente speciale vabbè eh Torino un sesto di Torino pazienza niente pazienza pazienza Munua Mununa 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 Gustavo Mununa Gustavo Mununa yeah Gustavo Lima la Ribbi e chi è questo? Gustavo Mununa il Varese che si è fatto la foto in mezzo alla strada uno campo quindi eh giusto ok ultimo due bustini speriamo che troviamo almeno un'altra speciale buona eh gli scudetti vediamo oh del Cittadella e del Cesena che schifo sono bellissimi toccali sono il cavalluccio marino belli bello bello ok è bello il materiale comunque fatto va bene quindi vabbè scudetto del Cesena e del Cittadella un sesto di Atalanta Zuniga Zuniga Camilo Camilo Pescara c'è pure Sporzi Sporzore e Zazza Zom ora non la suoniamo Zom eh 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 ragazzi non poteva mancare eh andiamo a prendere un'altra eh no niente special una special una rotonda eh c'è García non la suon male nooo vabbè un sesto di Roma un sesto di Inter Net un sesto di Patata Duvan Patata no ezza pata Bentivoglio non è vero Magnanelli e poi scuole poi scuole è scuole Cristiano Ronaldo mi dispiace si si Cristiano Ronaldo eh vabbè che schifo di apertura sinceramente non ho trovato prende niente soltanto gli arbitri questi arbitri gli arbitri vabbè quindi niente ho trovato quello del Livorno ho scoperto il Livorno Livorno ma qual è Livorno? come si chiama? Cittadella cittadella ignorante vabbè Cesena vabbè questo è tutto mi racconta un bel like iscrivetevi anche al canale di mio cugino che sarà sotto in descrizione quindi questo è tutto saluta ciao e alla prossima ciao a tutti